Che cosa micchia è successo, micchia mi gira la testa, non sto capendo un cazzo, micchia, i drogati stanno messi peggio, è meglio di me Oh cazzo Salve Salve Mi dici perché sono legata ad una seggia a fianco a un ventilatore gigante? Lo sai che quello non è un ventilatore gigante? Che micchia è sta cosa dietro di me? Questa dietro di te è un tritacarne gigante In che senso? Oh, io a due secondi fa sto mangiando il minestrone, ma perché sto qua in mezzo? No, minestrons, minestrons come te Vabbè, ti ho portato qui per una cosa Quale? Secondo te io ti porto a fianco a un tritacarne gigante, che ti posso dire? Mettiamoci a fare la carne Sì, mettiamoci a fare la carne, sì però la tua Oh che cacchio dici? Sono vivo o merda? Oh cazzo, per ora no Il primo è andato Minchia, tra tutti i posti proprio qua dentro dove va a cadere il pallone, ma noi teniamo una sorta di quelle là in mezzo Ecco di qua signor pallone, adesso andiamocene Ma che cacchi? Minchia Una ventola da reazione gigante Me l'hai preso lo stramorto di un pallone? Che cazzo è sta cosa? E che cazzo ne sono? Dici a me Minchia Eh vabbè Usciamo dal buco da cui siamo entrati va E al prossimo da squarta Chi cazzo sono sti due? Chi cazzo c'è dietro di me? Chi cazzo stai dicendo? Minchia Un ballerino dell'Adidas russo Ma che cazzo stai dicendo? Oddio, oddio No c'ho paura dei russi Russano Ogni volta che dormono fanno Eh signor Eh signor Ragazzi che cazzo sei tu Juventino? Che cazzo è sta cosa? Salve Che cazzo ci fate voi qua dentro? Eh stavamo Stavamo giocando E stavamo facendo così col pallone Quattro palleggi E il pallone è lì proprio su questo qua Non so palleggiare Ha dato un calcio al pallone fortissimo L'ha fatto finire qua dentro Dove c'è La ventola della Playstation Versione di formato gigante Quella è una squartatrice E a che cazzo serve? A voi In che senso? Scuso Capisco il tutto Però attaccarci a una libreria gigante Sembra un poco necessario Eh sì Statevi zitti Aia non so camminare Allora stavo dicendo Statevi zitti Adesso minchia vi do una spinta Vi do una spinta incredibile Minchia Manco Sergio Ramos E sti cazzi? Che cazzo avete detto? Ok Pepe Pepe minchia Pepe 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 guarda che muori pure tu eh Eh ma tu muori brutalmente Pepe non ti muovere Pepe non ti muovere Pepe Pepe tanto muo morirete lo stesso Ragazzi me l'avete pigliato il pallone Che cazzo c'è là fuori? Eh Gennaro e Ciro E chi cazzo sono? Fate i cazzi tu Ragazzi ma mica ci vuole un ora più un cazzo di pallone Eccolo Chi cazzo è sto Juventino? Non vi avvicinate che minchia finiscono male Fuh Mi è veramente sputato dietro la nuca Sì perché? Oh cacchio No No Hai il piede Pepe è stato un piacere conoscerti Ehm Non è che sia molto Pepe Pepe Porca di quella Sono sopravvissuti Cazzo Cosa minchia sta succedendo? Oh Adesso chi è che finisce nella squartatrice? Minchia che brutalità me lo stai dicendo Dove minchia è andato? Ah Eh Ehm Adesso facciamo una cosa Cioè Slegateci Ce ne abbiamo una pizza E facciamo finta di niente Esatto No 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 Minchia Ciò ti posso dire che avevi ragione Minchia Sembra una tortura milanese Sta roba Ma che cazzo? Ma che cazzo? Va stoppiamo il video prima che qua secondo me Stoppiamo il video perché a 3 anni sto qua a guardare sta scena domani mattina Faccio noi andiamoci un'affangula Che cazzo? Mela Pepe non vi preoccupare poi veniamo a salvare For Che cazzo è diventato? Che mi chiede sta cosa? Ho visto abbastanza per oggi Arrivederci Grazie Che cazzo è diventato? Ho visto abbastanza per oggi